Molto spesso l'Orco è proprio fra le mura di casa, sulla violenza di genere ed in considerazione dei risvolti della pandemia, l'attenzione delle forze dell'ordine è sempre massima. Se parliamo della tempistica del lockdown, durante questo periodo non abbiamo avuto alcuna denuncia in merito alla violenza di genere. Immagino che il motivo possa essere anche la difficoltà nel muoversi e nel comunicare da parte delle vittime in quanto sicuramente bloccate all'interno dell'ambiente domestico che è quello in cui purtroppo si manifestano nella maggior parte dei casi la violenza di genere. Per quanto riguarda invece l'intero anno 2020, per ora ci attestiamo più o meno sugli stessi numeri dello scorso anno, quindi sui 50-55 casi di reati inerenti alla violenza di genere. Violenza di vario tipo, non solo fisica ma anche molto spesso ad esempio psicologica. Anche in provincia la pandemia ha evidenziato invece altre criticità. Durante il lockdown sono aumentate le richieste di intervento per quanto attiene liti in famiglia o liti col vicinato. Immagino soprattutto per la tensione psicologica a cui i cittadini sono stati sottoposti, soprattutto verso la fine del lockdown. Ma nulla che avesse risvolti dal punto di vista penale. Al comando provinciale dei carabinieri di Belluno l'eventuale donna vittima di violenza viene accolta in un ambiente protetto. Qui presso il comando provinciale vi è un pool di carabinieri specializzati presso il nucleo investigativo che accoglie eventuali vittime o chiunque voglia chiedere informazioni H24. Naturalmente le vittime vengono accolte da personale in borghese e ospitati in una stanza anonima che non ha le fattezze di un ufficio dell'arma dei carabinieri proprio per mettere a proprio agio l'eventuale vittima.